Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Deciso cambiamento della circolazione atmosferica, infatti siamo stati raggiunti da correnti molto fredde provenienti direttamente dal nord Europa che hanno portato la formazione di una bassa pressione con precipitazioni e ancora delle nevicate sul nostro territorio con accumuli sconsiderevoli oltre i 70-80 centimetri a quota 2000 metri. Cosa accadrà nelle prossime ore? Vedete come ancora delle basse pressioni con dell'aria ancora fredda insisteranno fra l'Oceano Atlantico e andranno via via a muoversi verso l'Italia, quindi avremo occasione per nuovi peggioramenti del tempo non così importanti e significativi come quello che abbiamo vissuto nella giornata di ieri e però avremo una fase di forte instabilità atmosferica con temperature ancora abbastanza fredde. Infatti se vediamo proprio l'evoluzione del tempo per la settimana prossima ho indicato un'estrema variabilità, proprio questa circolazione depressionaria si andrà a formare fra la Francia e la Spagna e piloterà diverse perturbazioni in direzione del nord Italia e quindi avremo diverse occasioni per piovaschi, acquazzoni e ancora delle nevicate oltre 1200-1400 metri di altitudine. Ma andiamo con ordine e vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede una prevalenza di nuvoloso, cieli nuvolosi sul nostro territorio, robico, sia nella zona della Medio-Bassa, la Valle Seriana e lago di Sio sia nella zona dell'Alta Valle Seriana, la Val di Scalve e la Val Camonica. Avremo un graduale peggioramento del tempo tanto che già dalla tarda mattinata e il primo pomeriggio arriveranno anche le prime pioviggini sul nostro territorio ed è il nevischio intorno ai 1500-1600 metri di quota. Infatti lo zero termico, vedete nelle ore centrali della giornata, si posizionerà intorno ai 1600 metri di altitudine. Sarà una giornata abbastanza fredda per il periodo con massime acclusone che non supereranno i 10-11 gradi anche vista la scarsa insolazione. Infatti avremo una prevalenza di nuvolosità su gran parte del nostro territorio. Cosa accadrà poi in settimana? Avremo queste pioviggini che caratterizzeranno diciamo il tempo fra la domenica sera e il primissima mattina di lunedì. Poi nel corso della giornata di lunedì avanzeranno delle schiarite sul nostro territorio e quindi il tempo diventerà più variabile con temperature acclusone comprese fra i 5 gradi di minima quindi abbastanza fresche al primo mattino però nel corso della giornata grazie anche al qualche raggio di sole che potrebbe raggiungere l'altopiano di clusone si diciamo raggiungeranno anche i 13-14 gradi zero termico intorno ai 1700 metri di altitudine. Martedì sarà una giornata caratterizzata da due volti. Il primo al mattino avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso ma nel corso della giornata una nuova perturbazione raggiungerà di nuovo la nostra catena alpina e prealpina portando una nuova instabilizzazione dell'atmosfera e quindi in serata ci attendono probabilmente dei nuovi piovaschi zero termico a 2000 metri e quindi qualche fiocco di neve nella tarda serata di martedì si riaffaccerà sulle nostre montagne intorno ai 1600-1700 metri di quota. Mercoledì probabilmente la giornata più instabile caratterizzata da alternanza di schiarite ma anche frequenti piovaschi e acquazzoni ben distribuiti sul nostro territorio. Nuove nevicate, non diciamo degli accumuli significativi ma altri 5-10 centimetri intorno ai 2000 metri sul nostro territorio aerobico. Giovedì un graduale miglioramento del tempo anche se rimarremo in un contesto di estrema variabilità tipica del periodo di aprile con temperature, vedete, a clusone abbastanza fredde sempre non superiori a 10-11 gradi di minima e 5-6 gradi di massima. Venerdì una variabilità con una tendenza a un deciso miglioramento del tempo per il prossimo fine settimana dove potrebbe di nuovo tornare il sole splendere il sole e le temperature riportarsi nella media del periodo. quindi complessivamente avremo una settimana caratterizzata da frequenti passaggi nuvolosi e da una forte instabilità con frequenti piovaschi. E per il meteo è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.